buongiorno a tutti e benvenuti alla ventinovesima lezione della nostra storia medievale che si intitola l'espansione del regno di francia filippo secondo augusto 1180 1223 vale a dire che abbiamo deciso di dedicare interamente questa lezione incentrata sul regno di francia al regno di un singolo sovrano evidentemente perché questo regno questo sovrano rappresenta in qualche modo un vero spartiacque per quella che è l'intera storia della francia vi ricorderete perché abbiamo parlato nella lezione che era dedicata appunto al regno francese dell'undicesimo secolo che i domini della corona e lo potete ben vedere in questa cartina quelli blu nella cartina del 1180 erano occupavano veramente una porzione ridotta del territorio francese mentre invece alla fine del regno di filippo secondo vedete come la situazione si sia abbastanza capovolta nel senso che abbiamo un'espansione del colore blu che è quello dei domini diretti della corona abbiamo un'espansione anche del colore verde che indica comunque una parte di territorio che seppur non è dominio diretto della corona e quindi affidata comunque a di infeudata ai vassalli del re rimane comunque sotto il governo francese mentre la parte rossa del 1180 che rappresentava i feudi angioini in terra francese quindi quello che abbiamo chiamato nelle precedenti due elezioni l'impero angioino quindi la normandia il men l'angio la bretagna e il ducato dell'acuitagna tutti infeudati al re inghilterra plantageneto vedete come nel 1223 si siano notevolmente ridotti a una parte meridionale del ducato di acquitagna solamente quindi lo vediamo da questa cartina come è facile ammettere che il regno di filippo secondo sia veramente un regno che cambia la storia della corona francese quindi andiamo con ordine e vediamo di delineare un po anche da un punto di vista cronologico quelli che sono i caratteri di questa figura perché filippo secondo nasce nel 1165 e morirà nel 1223 è il settimo sovrano della dinastia capetinge al primo fu ugo capeto nel 987 quindi siamo praticamente a due secoli di dinastia e regnò sulla francia per un tempo lunghissimo per l'epoca perché per ben 43 anni perché perché salì al trono la morte del padre luigi settimo nel 1180 vale a dire quando filippo aveva solamente 15 anni questo questi dati cronologici ecco questo per fare una diciamo una divagazione di metodo storiografico nel senso che così esporre delle nozioni che ne sono nozioni cronologiche di fatto in realtà non deve farci accontentare nel senso che i dati vanno comunque interpretati e quindi cosa possiamo dedurre dal fatto che il sovrano abbia governato per 43 anni e che sia salito al potere a 15 possiamo dedurre l'avevamo già accennato se vi ricordate nella precedente lezione dedicata al regno d'inghilterra che la differenza fra dinastia angioino plantageneta in inghilterra nei feudi francesi rispetto a quella della corona di francia era che da un lato il potere del sovrano angioino era estremamente superiore questo lo vedevamo anche molto banalmente negli scontri militari dove il re d'inghilterra aveva sempre più facilità nonostante fosse signore di domini di natura diversa e separati dal mare perché l'inghilterra è la parte continentale in ogni caso riusciva a mettere in campo forze militari superiori a quelle del sovrano francese ma perché guardate il sovrano francese era signore di fatto di un territorio inferiore e territorio dove la conflittalità feudale eccettuato la parte blu dove effettivamente il governo del re era solido doveva fare i conti invece con i vassalli quindi mobilitare i vassalli chiamarli alle armi e così via però dall'altra parte a vantaggio del sovrano francese cosa c'era c'era il fatto che le successioni al trono della dinastia capetinge sono estremamente pacifiche cioè la dinastia capetinge significa che la dinastia capetinge il potere della dinastia non veniva messo in discussione cosa che invece avveniva che lo ricorderete perché avete seguito le due precedenti lezioni avveniva quasi sempre era quasi una costante invece delle successioni al trono della dinastia plantageneta cioè i conflitti dei baroni e i tentativi di usurpazione i fratelli riccardo e giovanni e prima ancora enrico secondo e sua mamma matilde goffredo e così via no creavano sempre problemi e quindi a potere regio che di fatto era meno solito qui in era di francia sul territorio estremamente inferiore esercita un potere che però il più solido di quello del regno d'inghilterra ok quindi questo qua sono dei dati che possiamo desumare dal fatto che per 43 anni un sovrano oltre ad aver goduto di buona salute sicuramente non ha subito tentativi di usurpazione andati a buon fine e sicuramente non è stato assassinato inoltre il fatto che sia salito al trono a 15 anni per carità dobbiamo ovviamente settare il nostro concetto di maturità anagrafica non sull'età contemporanea ovviamente dove un ragazzino di 15 anni non sarebbe assolutamente in grado di governare la francia soprattutto in epoca di conflittualità feudale ma settandolo sulla epoca medievale 15 anni sono comunque pochi quindi è da dire che non nonostante questi 15 anni anche quando sarà il potere non c'è nessuno che accampa diritti o tenta di prendere il potere del sovrano che è considerato legittimo quindi a questo significa che la dinastia capetigia è molto solida al potere sul territorio indotto ma molto solida ora il regno di filippo secondo rappresenta l'espansione di questo regno l'espansione che avviene verso due direzioni che vedremo nella lezione che sono l'una verso i cosiddetti vassalli minori potremmo dire quella parte più verde vale a dire quella dei normali vassalli del regno di francia con cui filippo così come i suoi predecessori si è trovato a scontrarsi numerose volte ma non solo ha voluto anche scontrarsi nel senso che diciamo tratto caratteristico della dinastia capetigia è proprio quello di tentare di inserirsi all'interno delle dispute feudali per sfruttare questa conflittualità vantaggio della corona e incamerare nuovi feudi riportandoli quindi togliendoli ai vassalli regnanti in quel momento e riportandoli nel dominio diretto della corona l'altra grande direzione di espansione ovviamente quella che salta subito all'occhio guardando questa cartina vale a dire lo scontro con gli angioini plantageneti per cui alla fine del regno di filippo secondo questi domini saranno ridotti come abbiamo detto prima semplicemente al sud dell'aquitania quindi è successo qualcosa nel regno di filippo secondo che ha fatto sì che il regno di francia si espandesse e togliesse in qualche modo la signoria feudale dei plantageneti su questi temi dopodiché se una parola chiave quindi per identificare il regno di filippo secondo è quella di espansione del dominio della corona di francia l'altro è quello del consolidamento vale a dire un consolidamento interno parliamo di politica interna perché perché la storia di francia ovviamente quella la storia del forse dello stato che è maggiormente simbolo della potere centrale del potere centralizzato di uno stato voglio dire se ancora oggi andaste in francia e parlaste di una riforma federale della repubblica francese ci prenderebbero per matti perché in francia non funziona così francia è parigi capitale è stato francese che ruota intorno no è parigi centrica per carità però c'è un forte potere centrale che governa il territorio questa concetto del potere centrale che governa il territorio ha una storia lunghissima che fonda le proprie radici proprio in epoca medievale e in particolare le fonda sotto il regno di filippo secondo che riforma l'amministrazione del regno proprio per fare in modo che il governo centrale avesse la possibilità di governarlo effettivamente questo territorio quindi senza delegare alla ai vassagli o ai feudatari ad esempio la riscossione dei tributi perché questo è il ruolo fondamentale dell'amministrazione trovare sul territorio le risorse che sono necessarie al mantenimento dello stato quali sono le funzioni dello stato medievale fare la guerra e non si tratta ovviamente né di welfare state né di altro tipo di amministrazione ma il sovrano ha necessità di avere il monopolio della violenza come lo chiamava max weber all'interno del proprio territorio quindi ha bisogno di forza armata forza armata che va ovviamente finanziata come la finanziamo con le tasse come prendiamo queste tasse con l'amministrazione pubblica e questo è dove agirà questo il settore nel quale agirà la riforma appunto di filippo secondo quindi ovviamente una riforma chiave non dimentichiamo che questo è lo stato che si evolverà fino a diventare il simbolo dell'assolutismo lo stato sono io il sovrano a quel punto addirittura andrà oltre la normale diciamo essenza del potere centrale perché si porrà addirittura sopra perché assoluto poi da un punto di vista etimologico vuol dire questo vuol dire legibus solutus cioè sciolto dal vincolo delle leggi chi è che era sciolto dal vincolo delle leggi il sovrano che quindi stava al di sopra della legge ok quindi lui lì si va si supera anche il confine dell'essenza del potere centrale ma questa è un'altra storia quindi andiamo con ordine vediamo come filippo che era nato a donesse nel 1165 ricevette analogamente a quanto poi sarebbe successo quattro secoli dopo luigi quattordicesimo anche qua non è un caso che abbiamo deciso di inserire questo così paragone di secondo nome di donna e cioè dono di dio che secondo nome che viene dato a filippo secondo ea luigi quattordicesimo perché sono due sovrani che possono essere appunto considerati un po simbolici anche per la storia di francia perché gli viene dato questo soprannome di tono di dio a filippo secondo perché luigi settimo il padre aveva atteso l'arrivo di un re dei maschio che avrebbe in qualche modo assicurato la successione pacifica del potere per ben trent'anni ricevendolo quindi avendo finalmente un re dei maschio solamente della terza moglie adele di champagne nel 1179 quindi quando filippo secondo a 14 anni il 59 luigi settimo decise seguendo quella che era una tradizione della dinastia capetingia di associarsi al trono il figlio la cui consacrazione però quindi l'incoronazione sarebbe avvenuta nella cattedrale di rems il solamente il primo di novembre quindi alla fine del 1179 perché perché nonostante filippo luigi settimo avrebbe voluto farla prima questa in consacrazione perché con spa che diciamo consacrazione attenzione perché il francese viene non solamente incoronato ma viene anche unto no cristo l'unto del signore il sovrano francese dall'arcivesco di turno che sia quello di rems che sia quello di sante di in ogni caso viene un tono e in questo modo con questa unzione fatta dal potere ecclesiastico avviene in qualche modo la consacrazione da parte di dio da parte del potere divino al sovrano terreno quindi da chi riceve il compito e il diritto di governare il regno di francia il re lo diceva riceve da dio attraverso l'unzione unzione che poi farà anche tante altre cose no io vi consiglio di leggere il capolavoro di marc bloc uno storico francese morto assassinato dai nazisti nel 1944 che si intitola i re taumaturghi cosa vuol dire cosa vuol dire i re taumaturghi sono i re curatori chi sono i re curatori sono i re di francia del medioevo che esprimevano questa loro sacralità questo per loro aver ricevuto da dio il potere imponendo le mani così si diceva imponendo le mani e toccando i malati e così facendoli guarire ovviamente non che avessero dei poteri magici i re di francia però all'interno della narrazione propagandistica della corona e anche qua capiamo no questa solidità della corona perché perché dio che ti dà il potere e come lo vediamo questo potere di dio non solo nel tuo governo le attuazioni militari e in tutto quanto ma nel fatto che tu hai il potere no di curare e quindi questo è un dato è estremamente essenziale e comunque cosa succede filippo secondo non viene consacrato all'inizio del 1179 come avrebbe voluto padre perché rischia di morire e quindi rischia di mandare a monte tutta l'impalcatura costituzionale voluta dal padre perché è un incidente di caccia lo lascia praticamente a stare al ghiaccio una notte nella foresta da solo quindi lo ritrovano miracolosamente però gravemente ammalato e si pensa anche al peggio che quindi il giovane filippo quattordicenne stia per trapassare ma in realtà riesce a superare questa malattia e poi a venire quindi consacrato il primo di novembre mentre era ammalato e rischiava di morire il padre era così preoccupato luigi settimo dalle condizioni di salute di quello che era l'unico re dei maschi da recarsi addirittura personalmente in inghilterra a canterbury dove era sepolto thomas beckett proprio per che era morto all'inizio del decennio nel 1170 e però era già diventato oggetto del pellegrinaggio l'abbiamo visto nella lezione dedicata a enrico secondo thomas beckett lo vediamo anche no nel famosa opera letteraria la prima che si studia in letteratura inglese quando si fa alle superiori noi canterbury tales di joffrey chaucer che parlano appunto dei pellegrinaggi appunto a canterbury che è una tradizione che nasce proprio e all'inizio di questo decennio quindi così ecco che luigi settimo pur di aver salva la vita del figlio è disposto addirittura recarsi in inghilterra ea così rendere omaggio a thomas beckett luigi settimo stesso che il figlio si sopravvive ma lui no perché meno di un anno dopo vuole dire nel settembre del 1180 muore e filippo secondo i cui obiettivi politici costanti per tutto il suo regno l'abbiamo detto sono il consolidamento interno e l'espansione esterna e dominio della corona di francia aveva già sposato giugno del 1180 quindi due mesi tre mesi prima della morte del padre isabella di enou che aveva dieci anni quindi una sposa di pensate dieci anni la quale però avrebbe portato in dote a quello che sarebbe diventato da lì a pochi mesi re di francia il territorio della correntea di artois che sarebbe l'odierna regione nel nord del paese la vedete esattamente qua vi consiglio di guardare molto bene questa cartina perché così avete una perfetta idea della geografia storica della francia vedete l'artois sta qua nel nord della francia quello che oggi noi conosciamo come il passo di calè quello dove viene ambientato per dire il film benvenuti al nord noi la grande commedia francese viene ambientato in queste zone qua una zona che viene portata vicino al confine con belgio oggi viene portata in dote al re di francia dalla moglie che aveva solamente dieci anni isabella sempre prima di ascendere però ufficialmente al trono ancora in questa estate del 1180 invece del padre luigi settimo che era già malato stava per morire ma era già malato quindi era impossibilitato governare il regno filippo ii aveva firmato quindi lui stesso con enrico secondo d'inghilterra il trattato di gisor gisor è una località fondamentale per i rapporti fra gli anglo normandi plantageneti angioini e il regno di francia perché si trova appunto nel vexen territorio di confine praticamente fra la zona dell'île de france di parigi e la normandia che competeva in realtà i normanni ma era aveva questa località dove c'era questa quasi inespugnabile fortezza che dava a chi la controllava la possibilità quindi di dominare controllare la via di comunicazione fra parigi e ruene in normandia quindi qui viene tra firmato fra filippo secondo ed enrico secondo d'inghilterra nell'estate del 1180 il tra un trattato che nelle intenzioni dei due regni avrebbe dovuto visto che stabiliva addirittura un'alleanza di mutuo soccorso cioè quando uno dei due regni veniva attaccato da un terzo e l'altro doveva andare in soccorso di mutuo intervento si direbbe all'epoca della seconda guerra mondiale in realtà questo trattato che pone fine sia al conflitto che stava divampando fra l'inghilterra e la francia in quell'epoca ma che rappresenta solamente una pausa nell'ostilità tra i due regni l'abbiamo detto così forse un po come una provocazione periodizzante nella precedente lezione ma è forse addirittura riduttivo legare la conflittualità fra inghilterra e francia della guerra dei cent'anni appunto a cent'anni perché in realtà quella guerra che scoppierà poi intorno alla metà del quattordicesimo secolo sarà solo così la prosecuzione di un conflitto che in realtà dura già ampiamente dalla conquista normanna potremmo dire dell'inghilterra perché quando guglielmo conquistatore nel 1066 con la battaglia di hastings inizia con la conquista dell'inghilterra essendo anche duca di normandia e lì questo sta il problema perché il re d'inghilterra è anche titolare di tantissimi feudi di una porzione enorme e importante di territorio francese quindi gioco forza questo determina una conflittualità con il regno di francia la didastia capetice uno dei primi atti del regno di filippo secondo però fu l'espulsione degli ebrei dal regno con un atto poi ritirato il 1198 quando si ritornò ad una convivenza pacifica come i tempi di 17 però un espulsione che venne motivata dal sovrano con l'accusa che gli ebrei si erano resi responsabili delle disgrazie occorse alla francia negli ultimi tempi quindi ovviamente una motivazione estremamente generica e assolutamente senza priva di fondamento nella pratica no però in realtà qual era l'obiettivo della corona era quello di confiscare i beni degli ebrei per ovviamente incamerare risorse finanziarie che erano necessarie come il pane alla governo del regno di francia come la tradizione della dinastica pitigia poi il sovrano doveva combattere quindi l'abbiamo detto prima grande direzione di espansione del regno di francia doveva combattere con i vassalli con i propri vassalli del regno per affermare la propria autorità contro la pretesa autonomia locale dei grandi feudatari i feudatari pretendevano di governare proprio feudo in autonomia ovviamente il potere centrale questo non lo poteva consentire quindi cercava in qualche modo di superare quella che era la forza centrifuga del sistema feudale aumentando la propria forza di attrazione immaginiamoci in questo caso il potere centrale come è una sorta di buco nero che progressivamente attrae sempre di più no questo voleva fare la dinastia capetiggia trarre alla fine tutto il territorio francese all'interno del proprio il primo caso però di conflittualità con i feudatari avvene nel 1181 quindi un anno dopo anche se alcuni secondo alcuni storici è il 1183 ma comunque sia o un anno o tre anni dopo la salita al potere di filippo secondo e oppose il re di francia a filippo primo conte di fiandra che era zio della moglie del re di francia isabella che era appunto sposa da poco del re di francia i motivi del conflitto però sono oggetto di discussione fra gli storici perché la spiegazione ufficiale riposa sul fatto che luigi settimo già gravemente ammalato nel 1179 avesse nominato filippo di fiandra guardiano del figlio filippo secondo che aveva all'epoca 14 anni però cosa succede ovviamente filippo secondo che ha già da giovane una personalità molto forte appena muore il padre e appena viene coronato re nel 1180 reclama immediatamente la propria indipendenza dal guardiano nominato dal padre causando così lo scontro con il conte di fianda secondo patrick fan kerenbuck che ha scritto il libro le capetiene invece filippo di fiandra non fu mai realmente reggente del regno e il conflitto scoppiò nel 1183 quindi non nel 1180 quando filippo secondo intervenne militarmente contro filippo primo di fiandra che si era rifiutato dopo la morte della moglie elisabetta di vermadois nel 1182 di restituire la dote che comprendeva che cosa comprendeva l'omonima contea delle friandre e sarebbe dovuta andare a chi secondo ora di francia alla sorella eleonora di vermadois quindi è quello che abbiamo detto prima cioè l'inserimento del regno di francia del re di francia all'interno di un potenziale conflitto di successione locale feudale in ogni caso il conflitto fu molto violento portando devastazione in piccardia che vedete qua sta appunto a nord di parigi abbiamo la città di ammien in piccardia eccola qua quindi questo territorio che venne devastato e nel lille de france quindi il territorio sotto quello che orbita ovviamente intorno a parigi quella che è appunto il nucleo fondante del regno di francia filippo di fiandra era riuscito a creare una solida alleanza anti re di francia comprendente chi il langravio di bravante goffredo di lovagno l'arcivescovo di colonia filippo di heisenberg e baldovino quinto daino deno che era padre della regina consorte isabella ed era vassallo impariale quindi cosa succede il conte di fiandra aveva raccolto una alleanza non di feudatari del regno di francia ma di feudatari imperiali anche l'arcivescovo di colonia ovviamente ma anche l'angravio di bravante erano territori di così confine vedete anche la contea di eno come si trova estremamente a est ok quindi erano non di fatto vassalli del regno del regno di francia ma erano assaggi liberi il trattato di bovè in piccardia che è una località sul il fiume somme poco lontano da amiene veletili piccardia del luglio 1185 che è nota infatti anche come la pace di amia confermava a filippo ii il possesso della contea di amiera stessa nella contea di mondidi e delle castellanie di guai e tu rot quindi una prima diciamo espansione territoriale grazie alle vittorie militari che il re aveva conseguito contro l'alleanza guidata appunto da filippo di fianda il resto degli anni ottanta del dodicesimo secolo in francia vide poi filippo secondo intervenire nelle dispute che divamparono fra enrico secondo d'inghilterra i suoi figli i suoi tre figli questo andate a rivedervi non la precedente lezione ma quella prima che si dedicava appunto alla successione di enrico secondo quella che poi porterà alla fine al trono riccardo cordileone ma che inizialmente inizia con una ribellione dei tre figli allora in vita di enrico secondo vale a dire enrico il giovane che doveva essere gli successori riccardo cordileone e goffredo di bretagna senza contare giovanni senza terra che però in questo momento è così emarginato dagli altri fratelli e filippo secondo che si inserisce all'interno di questo conflitto giocando però un ruolo ambiguo cambiando le alleanze e diciamo come idea come strategia quella aveva quella di avvantaggiare la parte che di volta in volta gli sembrava più difficoltà cioè e questo è anche una strategia che applica poi in altri momenti del suo regno ma se per esempio enrico secondo che era di inghilterra e governa un dominio molto solido può essere attaccato può essere indebolito dai figli e allora il re di francia si allea coi figli ma quando poi invece qualcuno dei figli si dimostra troppo potente o troppo ambizioso ecco che il re di francia è immediatamente capace di cambiare il suo sostegno passare al padre passare dall'altra parte passare diciamo dalla parte che di volta in volta gli sembrava più debole e sostenere quella per cercare di così dando un colpo al certo e uno alla botta di cercare di indebolire più o meno tutti questo era la strategia politica del re di francia quindi in questi anni che si vedono il re di francia alleato con i figli di enrico secondo contro il padre vede la nascita di un'amicizia che lega quindi filippo secondo augusto con riccardo cordileone il futuro riccardo primo d'inghilterra riccardo era stato sostenuto da filippo proprio contro il padre e con cui però filippo è di nuovo in guerra quindi contro enrico secondo anche verso la fine del secolo fra il 1186 e il 1188 questa fase della lunga guerra fra capetingi e plantageneti venne però interrotta quando quando papa gregorio ottavo dopo che il saladino nel 1187 aveva riconquistato gerusalemme facendo cadere il regno di terra santa regno feudale cristiano della terra santa con centro con capitale gerusalemme indisse gregorio ottavo la terza crociata quindi è un momento in cui i due regni smettono di combattersi perché la priorità è data appunto alla crociata non dimentichiamolo era anche una così conseguenza della indizione no delle varie crociate cioè il dire smettiamo di combatterci tra di noi tra i vari regni e sottoregni europei e dedichiamo la nostra forza a riconquistare i luoghi santi no così saremmo ricompensati con la vita eterna e tutto quanto alla retorica che girava appunto al torno alla spedizione crociata di turno dopo la morte di enrico secondo quindi attenzione 1189 l'ascesa al trono di riccardo cuor di leone il re di francia e il nuovo quindi re d'inghilterra presero entrambi la croce come si dice e partirono insieme per la terra santa quindi per la terza crociata che infatti considerato che ci partecipa anche se per poco tempo perché poi ci muore federico barbarossa è considerata e chiamata la crociata dei re quindi questa crociata inizia nel 1190 filippo secondo l'esercito francese si imbarcarono da genova mentre riccardo e gli inglesi si imbarcarono da marsiglia le condizioni del mar mediterraneo però colpito in quell'estate da tempeste invernali praticamente fuori stagione costrinsero le due flotte a rimanere ormeggiate per parecchi mesi a messina qui dalle anche tra i due sovrani subì una sorta di battuto d'arresto dal momento che riccardo decise di rompere il proprio finanziamento con adele che era sorellastra di filippo quindi figlia di luigi settimo da un'altra madre che era un matrimonio che era stato voluto da enrico secondo dallo stesso luigi settimo per cercare di rinsaldare l'alleanza franco inglese far cessare in qualche modo la conflittualità e riccardo vuole ripudiare si ripudia una moglie ma cancellare questa promessa di matrimonio cosa che comunque aveva una sua valentà giuridica all'epoca per sposare berengaria di navarra di cui era in realtà innamorato oltre alle dote alla dote che costei poteva portargli appunto a il proprio dominio e questo rischia già di appunto mandare un attimo a monte l'amicizia e l'alleanza fra i due sovrani filippo secondo quindi però decide di ripartire da messina appena possibile prima di riccardo cordileone e riparte il 30 marzo 1191 raggiungendo in meno di un mese la città di acri che si trova sulla costa praticamente siamo appunto in palestina e si trova pressoché più o meno qui dove vi sto segnando ok mentre invece riccardo si trattiene poi nell'impresa della conquista di cipro di cui abbiamo parlato della lezione dedicata riccardo cordileone l'assedio di acri durò quindi fino al 12 di luglio 1191 quando la città allo stremo decise di arrendersi in questi primi mesi di crociata filippo secondo che era arrivato a fine marzo perse anche l'uso di un occhio condannandosi così anche il soprannome ulteriore o alternativo ad augusto di guercio e a questo momento però l'esercito crociato qui era tornato ad unirsi anche a radiglietta riccardo cordileone con il conseguenze riacutizzarsi della rivalità con filippo seconda ed emergere della rivalità di nazionalità fra la parte francese e la parte inglese dell'esercito doveva iniziare la sua marcia verso sud lungo la costa per poi tagliare verso est e assediare gerusalemme il primo giugno 1191 però proprio in terra santa al seguito del re filippo primo di fiandra con cui contro cui filippo secondo aveva combattuto questa prima guerra vassallatica era morto a casa di un'epidemia forse di peste che era scoppiata all'interno del campo crociato ed era morto cosa molto interessante per filippo secondo senza lasciare eredi a questo punto filippo secondo augusto non si vuole lasciar perdere l'occasione di incidere su quella che è una la successione di un feudo rimasto praticamente vacante e perché sapeva il re che questo avrebbe provocato un potenziale conflitto feudale in patria decide così immediatamente di abbandonare la crociata lasciando tutto in mano a riccardo e di rientrare quindi in francia dopo aver fatto tappa a roma per chiedere ufficialmente al papa la facoltà di lasciare la crociata perché non era una cosa che uno poteva dire benissimo partecipo domani finché mi gira poi torno indietro no avevi bisogno del benestare papale per abbandonare la crociata cosa che filippo ottiene e il 27 dicembre 1191 può finalmente rientrare a parigi quindi di fatto una crociata mancata questa qua di filippo secondo riccardo cordileone sarà ampiamente più protagonista vuoi per la conquista di cipro vuoi per il tempo con cui in cui riccardo si ferma in terra santa i pretenenti della condea della condea scusate fiamminga erano tre baldovino quinto di eno che era il padre della moglie di filippo secondo e leonora di vermanduà che era la sorella della defunta moglie del defunto filippo primo di fiando e ovviamente lo stesso filippo secondo venne così deciso di concerto quindi evitando in questo caso il ricorso alle armi che baldovino quinto dietro il pagamento di 5.000 marchi d'argento alla corona di francia avrebbe ereditato il titolo di conte delle fiandre filippo però filippo secondo dispose che il valuà e il vermanduà venissero scorporati dalla contena di francia e andassero ad eleonora considerato il fatto che il re era perfettamente consapevole che alla morte della donna è vero che avviene solo nel 1218 quindi ci sarà ad aspettare un po però i territori a quel punto sarebbero stati devoluti questo il termine la devoluzione feudale sarebbero stati devoluti al dominio diretto della corona di francia quindi si assicura dice arriva anche una sorta di compromesso vuoi il titolo di conte tieni per lo tanto io sono già re di francia cosa me ne faccio di essere anche conte di eno e quindi lo lascia a baldovino però lascia monco lo lascia appunto privo di due territori fondamentali come il valuà e il vermanduà che quindi si assicura che un giorno sarebbero arrivati senza colpo ferire direttamente alla corona infine filippo secondo aveva ricevuto per il figlio luigi ottavo nato nel 1187 come eredità della moglie isabella di cui abbiamo parlato isabella di eno che aveva dieci anni quando aveva sposato nel 1180 filippo secondo che aveva già avuto figlio 1187 quando aveva 17 anni ma al partorire il secondo figlio maschio di filippo secondo nel 1190 muore di parto quindi giovanissima aveva vent'anni e muore di parto però aveva ricevuto filippo secondo come eredità della moglie morta per il figlio il futuro luigi ottavo peron e l'artua come avevamo già detto prima che l'avrebbe portata in dote quindi quando muore la moglie ecco che in eredità però al figlio quindi non direttamente a filippo secondo ma al figlio ma al padre va bene lo stesso questi due la città di però e l'artua si trattava di sistemazioni territoriali dalle quali almeno per quanto riguardava il nord della francia quindi la corona usciva notevolmente rafforzata il secondo matrimonio di filippo augusto però rappresenta un vero e proprio mistero storiografico perché perché filippo era perfettamente consapevole di doversi di sposare era vero un erede maschio era già nato ma luigi aveva solamente quattro anni e inoltre era già sopravvissuto ad una bruttissima malattia senza che le fonti ci illuminino sulle motivazioni di filippo sappiamo che il re tra le molte pretendenti possibili scelse inghe burgh di danimarca figlia del re di danimarca canuto sesto la quale portò in dote al re di francia 10.000 marchi d'argento e fin qua ci sembra tutto normale la principessa inghe burgh viene mandata in francia e incontra filippo il 14 agosto 1193 la moglie precedente isabella di eno era morta nel 1190 il matrimonio viene fra inghe burgh e filippo secondo di francia viene celebrato lo stesso giorno 14 di agosto ma all'indomani a sorpresa inaspettatamente filippo secondo annulla la prevista cerimonia di incoronazione della nuova regina consorta quindi di coronazione che non avviene attenzione e decido di spedire inghe burgh al monastero di san morve fosse annunciando di voler annullare il matrimonio dopo una notte di nozze accampando come pretesto per chiedere questo annullamento una presunta parentela che lo legava alla sposa che quindi avrebbe di fatto reso il non valido appunto il matrimonio dopo una notte di nozze nessuno sa però cosa sia successo durante quella notte il perché appunto filippo si sia così risolutamente deciso ad annullare tutto quello che era in programma gli storici hanno quindi potuto fare semplicemente delle congetture su questo gesto del re cui seguirono pensate sette anni di prigionia per la povera inghe burgh e in ogni caso povere questa è appunto principessa del regno della rimarca mandata a sposare re di francia e quindi dopo una notte matrimonio più una notte viene richiusa per sette anni in ogni caso un'assemblea un concilio di nobili e vescovi convocato da filippo secondo quindi ovviamente personaggi compiacenti con il re esaminato ha detta loro il caso della presunta parentela fra inghe burgh e filippo secondo diede ragione al re nel giugno del 1196 e così filippo poté risposarsi e questa volta con agnese di merania tuttavia due anni dopo nel 1198 altro momento chiave della storia europea del medioevo viene eletto papa lotario dei conti di giura che passa appunto al sogno pontificio con il nome di innocenzo terzo personaggio che abbiamo già incrociato nelle lezioni dedicata all'inghilterra quindi personaggio chiave nella storia europea innocenzo terzo con l'obiettivo di affermare o meglio di riaffermare il potere del papato l'autorità della chiesa di roma sura di francia decise di ordinare a filippo secondo di rimandare agnese di merania alla famiglia e di riconoscere immediatamente inghe burgh e la povera inghe burgh e che era rinchiusa nel convento come regina consorte di francia perché da un punto di vista giuridico questo era il suo diritto la mancata risposta da parte del sovrano determinò addirittura e l'interdetto papale su tutto il regno di francia lo ricordiamo con una volta l'interdetto è di fatto la chiusura del culto chiese monasteri tutto ciò che riguarda la chiesa è chiuso al punto dei fedeli quindi nessuno può pregare in un'epoca in cui lo diciamo tutte le volte questa non è così un dato di poco conto ma rimane un aspetto fondamentale del rapporto fra potere e popolo non la possibilità di esercitare un punto cristiano e quindi il papa lo blocca con l'accusa di bigamia cioè dice caro filippo sei sposato sia con inghe burgh e con agnese di meragna quindi commette il reato di bigamia e il 13 gennaio del 1200 filippo secondo pur lasciando la prigionia la prigioniera povera inghe burgh e nella torre di etamp guardate qua come oggi etamp organizzò una sorta di cerimonia di riconciliazione non una cosa di facciata come dire caro papa guarda mi sto riconciliando effettivamente come tu hai voluto con inghe burgh e che fu sufficiente a quanto pare per revocare l'interdetto nel mese di settembre quindi comunque nove mesi di interdetto sul regno di francia ci sono stati ma filippo secondo non intendeva conferire a inghe burgh e non c'ha mai neanche minimamente pensato i diritti che questa avrebbe dovuto ottenere come moglie quindi il fatto di essere incoronata come regina consorta di francia proseguendo in realtà nella procedura di annullamento del matrimonio filippo tuttavia nel concilio tenutosi a sua son nel marzo del 1201 capì che la sua posizione si faceva difficile e fu lui stesso ad abbreviare il dibattito che si stava tenendo in questo concilio rinunciando ufficialmente all'annullamento del matrimonio di trova bene l'avete avuta vinta voi so che tanto la vostra decisione arriverà appunto a chiedermi di rinunciare all'annullamento del matrimonio con inghe burgh e quindi vi risparmio la fatica e decido io stesso di annullarlo in ogni caso però nel luglio del 1201 agnese di meragna morì di parto anche lei appuassi dando alle luce il secondo figlio maschio di filippo e chiedo scusa perché avevo detto il secondo figlio maschio dato alla luce da isabella morta di parto nel 1190 nel caso fu la femmina la sorella di luigi ottavo qui abbiamo un altro che il secondo figlio maschio si chiama filippo anche lui agnese era già anche lei al secondo figlio aveva già avuto nel 1198 una figlia anch'essa punto femmina di nome maria quindi siamo a quattro figli di filippo secondo due maschi che tendenzialmente dovrebbero in qualche modo dare un po di sicurezza per quanto riguarda la successione al trono nonostante la nascita quindi un secondo re dei maschi mettesse il sicuro la successione al trono filippo nel 1205 riprese ancora una volta imperterrito la procedura di annullamento dal matrimonio con ingeburg in questo caso non era più il rischio attenzione di bigamia perché la moglie che lui avrebbe voluto così accanto a sé all'iragnese di meragna era già morta quindi lui era vedovo in questo momento per il papa sposato con ingeburg e però non c'era un'altra voglia in questo momento e la situazione proseguì diciamo dal punto di vista di battaglia giuridica potremmo dire fino al 1212 quando nonostante filippo avesse accarezzato per un momento nuovamente l'idea di risposarsi si decise finalmente a liberare la povera ingeburg conferendosi il suo status di regina consorte e quindi una lunga così di atriba matrimoniale di cui non sappiamo le origini le cause che però si protrae fino appunto al 1212 il punto successivo del regno di filippo secondo di cui trattiamo però ci impone di fare un attimo un salto indietro nel tempo fino al 1193 all'epoca nella quale filippo approfittando era appena tornato dalla lì era tornato nel 191 ma la terza crociata dura fino al 193 e in questo 1193 e l'anno nel quale filippo approfittando dell'assenza di riccardo che lo ricorderete di ritorno a un viaggio estremamente avventuroso per tornare della crociata non fa prima naufragio a corfu poi riesce ad arrivare a venezia si traveste da pellegrino per cercare di attraversare l'europa centrale viene preso in ostaggio da leopoldo quinto duca d'austria è consegnato poi in custodia l'imperatore lì rimane per un po qui con l'assenza del re che in mano all'imperatore no si chiede un riscatto però viene diffusa anche la notizia che il re in realtà sia morto è tutta una situazione estremamente complessa che ovviamente i suoi risvolti geopolitici perché filippo secondo decide a questo punto di allearsi seguendo la strategia già adottata in precedenza con il fratello minore di riccardo cuore di leone vale a dire giovanni senza terra con l'obiettivo quindi di spodestare in qualche modo l'ex amico e però rivale per il suo status giudico di re d'inghilterra dunque di normandia e tutti quegli altri feudi francesi avvantaggiando quindi il fratello più debole in questo momento che è giovanni senza terra cercando di far salire lui al potere tant'è che sarà il momento in cui giovanni diffonderà proverà a diffondere in inghilterra la notizia della morco di riccardo in qualche modo per cercare di aumentare il consenso verso la sua successione al trono immediata e il momento in cui filippo secondo di francia e giovanni pensano addirittura di chiedere dietro un pagamento in contanti in denaro all'imperatore di trattenere ancora riccardo quindi anche se si stava anche se la mamma di riccardo l'onoro da quitania stava mettendo da parte no i soldi del riscatto no come dire ti paghiamo per tenertelo ancora un po volevano tenerlo chiedere all'imperatore che lo trattenesse fino almeno al settembre del 1194 in modo di dare a loro due il tempo di attuare il loro piano che doveva oltre a costruire consenso intorno alla figura di giovanni senza terra potare portare a una vera e propria invasione e conquista armata dell'inghilterra quindi un vero e proprio colpo di stato però cosa succede filippo secondo cosa decide di in che modo decide di sfruttare la sua posizione nei confronti di giovanni senza terra perché dice caro giovanni tu vuoi subentrare al potere di tuo fratello riccardo e io tutto sommato posso anche alle armi con te però cosa mi dai in cambio perché qua l'abilità l'astuzia politica di filippo secondo sì sì facciamo alleanza ma vediamo sulla carta cosa io ci guadagno quindi è una strategia estremamente mirata così nel gennaio 1194 filippo per attaccare da est i possedimenti dei plantageneti in francia ottene da giovanni senza terra la concessione ipotetica chiaramente quando ora giovanni avesse raggiunto il potere la concessione della normandia orientale di levodreuil verneil evro l'operazione però non portò i frutti sperati dal momento che grazie al lavoro di eleonora da quitagne che riuscì a far imporre dei tributi straordinari all'inghilterra per la mamma di riccardo e anche la mamma di giovanni vennero pagati grazie al suo intervento due terzi del riscatto la rimanente parte sarebbe poi stata pagata successivamente e riccardo cuore di leone lasciò praticamente in come garanzia del pagamento futuro il nipote ottone alla corte dell'imperatore ma cosa importante il 2 febbraio 1194 riccardo cuore di leone viene rilasciato e può così iniziare la sua marcia di ritorno verso l'inghilterra e successivamente la francia perché dopo soli due mesi trascorsi in inghilterra dove in realtà riccardo trova una situazione estremamente più favorevole più pacifica di quella che si sarebbe aspettato perché i personaggi leali al suo potere avevano in qualche modo così affermato le ambizioni di giovanni senza terra che appena sa che il fratello è stato rilasciato dall'imperatore fugge alla corte di filippo secondo però dopo due mesi appunto in inghilterra riccardo può partire così per sistemare la questione in francia quindi la sua rivalità tanto con il fratello che con il suo grande alleato ma l'alleato del fratello e suo nemico filippo secondo quindi riccardo sbarcò in normandia il 12 maggio 1194 qui il conflitto fra filippo e riccardo fu in realtà un susseguirsi di piccoli scontri ai confini dei rispettivi domini 10 maggio filippo aveva già posto l'assedio quindi due giorni prima che riccardo sbarchi in francia aveva posto l'assedio la città la città cittadina di vero in normandia che si era rifiutata di sottomettergli si ma quando gli giunge l'annuncio del massacro della della guarnigione francese di ebreu per mano proprio di riccardo nel frattempo ria pacificato siccome il fratello quindi abbiamo riccardo cordiglione giovanni senza terra in questo momento insieme contro filippo secondo di francia vedete come le alleanze sono estremamente fluide quando filippo secondo viene a sapere di questo massacro perpetrato ai danni dei francesi da parte degli inglesi marcia verso ebreu distruggendo la città e dopo una serie di altre piccole vittorie reciproche quindi una volta si può nell'assedio un castello e riescono a prendere gli inglesi l'altra volta da un'altra parte i francesi fanno lo stesso e come ad esempio la presa di loche nella valle della euro era da parte di riccardo oppure la preparazione dell'assedio del castello di vendome da parte di filippo secondo esercito inglese riuscì a tendere un'imboscata a quello francese vicino a frate val catturando addirittura il sigillo reale francese il bagaglio al seguito del re filippo e addirittura l'archivio dei documenti il chariet no a che era che viaggiava sempre al seguito dell'esercito questo è dato abbastanza significativo perché in seguito proprio questo avvenimento filippo secondo che l'abbiamo detto gioca un ruolo fondamentale anche per la riforma amministrativa del regno di francia dispose la creazione dell'istituto della garde des show vale a dire il guarda sigilli a parigi un ufficio permanente che quindi si dovesse occupare avesse il compito di custodire no i documenti reali quindi la storia costituzionale di francia che in quel momento il re si portava tutti i momenti dietro con sé no tre e praticamente legge suprema che viaggiavano fisicamente insieme invece dopo questo avvenimento di questo rischio di perdere la documentazione che fondava di fatto il potere centrale di francia ecco che no e come se che non so la costituzione degli stati uniti che è esposta in originale a washington che rappresenta il o la dichiarazione di indipendenza ecco che rappresentano il fondamento della sovranità stessa degli stati uniti norma firmata il 4 di luglio 1776 venisse tutti costantemente in giro con il presidente americano come la valigetta delle armi atomiche cioè valigetta atomica da una parte e documenti costituzionali dall'altra no ovviamente e quindi ecco che qua inizia in francia l'ufficio la vita l'ufficio centrale che si deve occupare di custodire i documenti in ogni caso però dopo questa battaglia di frateval del 5 di luglio 1194 riccardo perfezionò la riconquista della normandia togliendo quindi ai francesi tutti i territori che avevano precedentemente conquistato formalizzando una prima tregua poi con filippo secondo tregua che in realtà non venne però rispettata con il conflitto che si spostava in realtà nella regione del berri qui nel 1195 i due eserciti inglese e francese si trovarono uno di fronte all'altro vicino a isodan mentre servevano i preparativi per il combattimento però riccardo cordileone si recò fisicamente da filippo secondo nel campo francese e in questo momento prestò l'omaggio vassallatico al re di francia per la normandia e le contee di angio e di quatu quindi di fatto sancendo una sorta di tregua una tregua quinquennale che venne siglata dai due sovrani poi successivamente il 15 gennaio 1196 a guillon cosa stabiliva questa tregua che riccardo cordileone cedesse la fondamentale la fondamentale località di gisor di cui abbiamo parlato prima il vexen normando a filippo secondo vedete è questa regione appunto di confine che vedete evidenziata in rosso sulla cartina il quale però filippo secondo abbandonava le altre conquiste e occupazioni territoriali in normandia e le sue pretese sul berri e sull'alvernia riccardo reggì reagì però immediatamente perché anche lui era abbastanza così astuto alla perdita della fortezza fondamentale di gisors facendo cosa dando inizio alla costruzione di una nuova fortezza di chateau gaillard sempre nel vexen normando quindi di fatto semplicemente spostando il problema e ovviamente come reagisce filippo secondo a questa notizia riapre immediatamente le ostilità fra il regno di francia e venite vedete come non si riesce a trovare una sistemazione una pace definitiva esercito inglese prese a questo punto distrusse il castello di vierzone del berri e si fece consegnare dietro un pagamento in denaro il castello di nonancur nel 1197 poi riccardo invase direttamente il vexen devastando il territorio lungo le rive della senna a sud di parigi nel settembre 1198 filippo venne sconfitto in una località situata tra garnache e vernon in normandia il 20 ecco che si profila quello di cui dicevamo prima c'è la forza militare dell'esercito anglo normando e superiore a quella del regno di francia il 26 settembre 1198 riccardo si impadronì del castello di buri nel vexen e di cursel in normandia ingangiando nei prezzi di gisor una battaglia contro l'esercito francese comandato da filippo seconda secondo quanto riportato dalle fonti filippo secondo ponendosi alla testa delle sue truppe all'attacco in questa battaglia vicino a questa fortezza che ormai aveva anche un significato simbolico tra i due poteri inglese e francese filippo secondo si mette addirittura no lui stesso a guidare l'attacco dei suoi cavalieri esclamando non fuggirò di fronte al mio vassallo perché per filippo secondo non dimentichiamolo riccardo cordileone è un suo vassallo gli ha prestato il giuramento di fedeltà vassallatica non più di tre anni prima ma per tradizione il re d'inghilterra è vassallo del re di francia per tutti i suoi feudi francesi e quindi vedete come in pieno stile feudale potremmo dire di cavaliere feudale immaginate da noi il re di francia che si mette alla testa dei suoi cavalieri va all'attacco esclamando appunto che un re non sarebbe mai fuggito di fronte al proprio passaggio in questa battaglia che è la battaglia di courcelles le gisor l'esercito anglo normanno che era superiore numericamente ebbe la meglio ancora una volta su quello francese che messo in rotta ripiegò sulla fortezza stessa di gisor che nella precedente tregua appunto stata data ai francesi nell'attraversamento però del fiume per raggiungere del fiume per raggiungere appunto la fortezza il ponte non resse il peso dei cavalieri feudali che lo stavano attraversando e crollò e filippo secondo fu proprio uno di quelli che finirono in acqua immaginate non si trattava di finire in acqua così vestiti come siamo noi oggi ma di finire in acqua vestiti con un'armatura pesantissima con tanto di cavallo e tutto il resto e quindi rischio praticamente certo di morire però per un intervento miracoloso dei suoi soldati viene estratto vivo dalle acque quindi riesce a salvarsi nonostante la vittoria però l'esercito inglese non riuscì ad approfittare della situazione perché questa formidabile fortezza di gisor rimaneva inespugnabile presidio francese quindi non riuscivano a prenderla questa fortezza intanto papa innocenzo terzo che aveva intenzione di indire una nuova crociata la quarta spingeva i due sovrani a trovare un accordo di pace il 13 gennaio 1998 tra le andili e vernon i due sovrani concordarono quindi una nuova tregua quinquennale anche questa tregua però sembrava destinata ad essere poco rispettata dai due contendenti se non che il 26 di marzo 1199 riccardo cuor di leone morì inaspettatamente stava l'abbiamo detto nella sua nella lezione a lui dedicata stava così dirigendo l'assedio di un castello che in realtà era praticamente indifeso già quindi sarebbe stato un assedio anche breve nel in acquitania ma così di notte facendo la ricognizione alle fortificazioni di questo castello su una guardia tira quasi a caso dalle mura una freccia di palestra che colpisce alla base del collo riccardo che moriva appunto da lì a poche ore la successione riccardo col di leone non era affatto scontata non lo è mai quando parliamo di plantageneti il defunto re non aveva figli maschi e in punto di morte nonostante la sua predilezione per il nipote arturo di bretagna che aveva 12 anni ed era il figlio del defunto fratello di riccardo fratello di giovani senza terra figlio anch'esso di e la nordacuitania del ricco secondo goffredo di bretagna a causa della minorità di quest'ultimo perché aveva solo dei dici anni questo arturo di bretagna si era risolto così estremamente a malincuore evidentemente riccardo col di leone a nominare come suo successore proprio giovanni senza terra il fratello minore che nessuno a cui nessuno avrebbe voluto dare nessun feudo che aveva provato ad acquistare il potere in tutti i modi possibili immaginabili che alla fine se l'era ritrovato servito comodamente su un piatto d'argento alla morte del fratello cosa succede però attenzione perché arturo di bretagna a capo ovviamente pretese sul trono inghilterra e sugli altri feudi angioini in francia filippo secondo e questo di nuovo vedete problemi di successione fra i pantageneti filippo secondo a questo punto applicando la stessa strategia che aveva già portato ad apporgiare riccardo contro enrico secondo e poi giovanni contro riccardo scelse questa volta di schierarsi dalla parte ancora una volta del più debole che era ovviamente arturo di bretagna contro l'ex alleato giovanni senza terra giovanni grazie anche all'intermediazione dell'ottantenne ormai madre eleonora d'acuitania venne accettato come sovrano nel poitù e in acquitania ma i baroni dell'angio del men e della turenna si rifiutarono di rendergli omaggio preferendogli invece arturo e arturo di concerto col suo alleato filippo secondo decise di recarsi proprio la corte del re di francia per apporgergli l'omaggio vassallatico come se fosse lui il signore feudale di quei territori quindi gli presta l'omaggio vassallatico oltre che per la bretagna feudio su cui poteva accampare effettivamente dei diritti perché era stato feudio del padre ma anche per i territori di cui abbiamo detto adesso dell'angio del men e della turenna siamo nella primavera del 1199 arturo poteva vantare l'appoggio dei vescovi di van e di nantes dell'abate di san melanie di rennes e di importanti baroni bretoni come goffreddo terzo di chateaubriand e guglielmo secondi di la guerche e altri ancora questa situazione consentì a filippo secondo di negoziare attenzione con giovanni senza terra da una posizione di forza perché se il re d'inghilterra avesse voluto che il re di francia gli concedesse la signoria sui domini aviti cioè sui feudi dei plantageneti in francia e che quindi abbandonasse di fatto il povero arturo allora giovanni avrebbe dovuto fare delle concessioni territoriali a filippo secondo ecco di nuovo l'astuzia politica l'abilità politica del re di francia nel maggio 1200 quindi venne siglato il trattato di gulè in questo trattato giovanni senza terra riconobbe la sovranità francese sui possedimenti continentali dei plantageneti che è sempre bene ribadirla anche per iscritto cioè la normandia l'angio e la cui taglia per i quali si impegnava attenzione si impegnava a pagare per succedere come signore feudale in questi territori 20.000 marchi al re di francia filippo secondo d'accanto suo riconosceva giovanni senza terra come legittimo successore di riccardo cuor di leone e i territori recentemente occupati da giovanni vale a dire il bexen normanno e la contea di evro e tornavano quindi di pertinenza del sovrano inglese seppur da un punto di vista feudale ma il re d'inghilterra cosa doveva ancora fare il re d'inghilterra doveva cedere i propri feudi nel berri a luigi chi era luigi luigi futuro luigi ottavo figlio primo genito di filippo secondo come dote della nipote bianca di castiglia figlia di una sorella di giovanni senza terra per il matrimonio di costei con lo stesso luigi vedete come i due regni provano di nuovo attraverso un matrimonio a in qualche modo consolidare un rapporto che però era pur sempre conflittuale quindi ecco che filippo però insieme a tutto questo otteneva anche che cosa la conferma della sovranità sulla fortezza di gizor che abbiamo già visto essere un presidio fondamentale del territorio rimaneva però a questo punto da sistemare la figura del giovane arturo un po abbandonato senza un po completamente abbandonato che ormai da un anno però viveva alla corte di parigi il filippo secondo se l'è appunto considerato che lui era un tredicenne quattordicenne se l'è un po rigirato come voleva e filippo secondo rinunciò quindi alle proprie pretese sulla bretagna che rimase quindi d'arturo come eredità del padre previo però giuramento di fedeltà a giovanni come se un signore feudale diretto quindi arturo poteva sì diventare signore della bretagna ma avrebbe dovuto giurare fedeltà allo zio giovanni senza terra come signore feudale superiore ok le ostilità tuttavia riesplosero già nel 1202 sotto dietro il pretesto della violazione del diritto feudale cosa successe successe che nel 1199 giovanni si era reso in viso a molte famiglie baronali inglesi divorziando dalla moglie avis di gloucester rea a detta di giovanni di non aver generato un re del trono e trattenendo però per sé la dote giovanni cosa aveva fatto aveva poi deciso di sposare isabella di angulem che era che sarebbe poi stata regina d'inghilterra fino alla morte di giovanni nel 1216 questa però è all'epoca era fidanzata di ugo di lusignano una potente famiglia feudale del puatù dove era scoppiata proprio per questa decisione di giovanni di prendere questa donna che era promessa sposa di ugo di lusignano scoppia una ribellione feudale i vassalli ribelli cosa fanno i vassalli ribelli si appellano a filippo secondo di francia perché filippo secondo di francia è vertice della piramide feudale in francia qual è l'accusa l'accusa è il fatto che giovanni senza terra in qualità di signore feudale del ducato di acquitania del tuo tuo e di tutto quanto avesse in qualche modo oltrepassato le proprie prerogative non rispettando quelle di un suo sub vassallo cioè ugo di lusignano quindi cosa succede succede che filippo secondo non si lascia sfuggire assolutamente questa occasione e ingiunge a giovanni di presentarsi come vassallo in qualità di vassallo ti devi presentare la corte di parigi per essere giudicato di queste accuse giovanni ovviamente che aveva capito come sarebbe andata a venire non si presentò e venne pertanto dichiarato vassallo ribelle dalla corte reale di parigi con quale conseguenza con la conseguenza ovviamente della confisca dei felvi mentre filippo secondo a questo punto rinsaldava la propria alleanza con arturo di bretagna si trattava ovviamente del preludio della guerra e filippo secondo decise di non perdere tempo e attaccò direttamente la normandia attaccò nuovamente potremmo dire la normandia dopo la guerra che l'aveva opposto nel decennio precedente a riccardo cordileone la normandia nel 1202 mentre arturo da attaccò nel puatù giovanni sconcentrò contro quest'ultimo la sua azione militare e riuscì a sconfiggere a catturare il nipote durante l'assedio di mirabù arturo morì probabilmente non lo si sa con certezza ma probabilmente fatto assassinare dallo stesso zio giovanni senza terra pochi mesi dopo nella primavera del 1203 in questa stessa primavera intanto filippo secondo dopo essersi assicurata la fedeltà dei vassalli di arturo proseguì l'attacco in normandia dove riuscì a demolire ecco qua un'inversione delle forze in campo rispetto all'epoca precedente di riccardo cordileone del padre ricco secondo l'esercito francese riesce a demolire il sistema di castelli difensivi della normandia prese le vaudreuil di nuovo e nel settembre iniziò l'assedio di chateau gaillard che era la nuova fortezza costruita appunto dai normanni per difendere la normandia riuscendo ad espugnarla all'inizio di marzo del 1204 successo che potremmo dire fondamentale nella guerra giovanni aveva deciso di abbandonare a questo punto le difese della normandia lasciandola completamente in valia del re di francia di tornare in inghilterra nel dicembre già dell'anno precedente nel dicembre 1203 filippo a questo punto era libero di dilagare in tutta la normandia e prese quindi falaise caen bayeux che capitolo alla fine di giugno 1204 perché giovanni era tornato in inghilterra la tornata in inghilterra perché temeva un attacco diretto del re di francia proprio in inghilterra e quindi era tornato in inghilterra per in qualche modo organizzare la difesa del regno dopo aver conquistato tutta la normandia quindi attenzione cosa che non era ancora mai successa da quando era stato fondato il ducato di normandia nella seconda metà del decimo secolo filippo secondo si diresse verso la valle della loira quindi per andare verso sud prendendo pochi nell'agosto del 1204 cui seguirono l'osch e sino l'anno successivo giovanni dopo aver predisposto quindi la difesa dell'inghilterra temendo un attacco diretto tornò in francia all'inizio di giugno del 1206 ma qui si limitò a constatare che ormai la forza del re di francia era troppo elevata che non avrebbe potuto contrastare l'azione di filippo secondo e quindi si limitò a concordare una tregua del re di francia che sanciva di fatto le conquiste territoriali che il re aveva operato nell'anno precedente quindi da questo momento in poi dal 1206 dell'impero angio in terra di francia rimanevano a giovanni senza terra solamente la guasconia la guyenna e il quattro meridionale l'obiettivo di secondo era di filippo secondo era a questo punto quello di consolidare le conquiste territoriale effettuate perché se di fatto si trattava di territori che erano stati amministrati dai di angioino dei plantageneti dei normanni per un sacco di tempo e quindi doveva in qualche modo estendere nella pratica proprio il governo del regno di francia all'interno di questi territori cosa che fece fra il 1206 e il 1213 nella champagne e in bretagna la sovranità francese venne accettata ma così non fu invece nell'alvernia nella coltea di bologna e nelle fiandre quindi nella francia del nord est in alvernia il cui conte guido secondo dal 1190 si era dichiarato alternativamente vassallo angioino e anche vassallo capetigio a seconda della convenienza indusse filippo secondo a procedere un intervento direttamente armato la guerra durò tra i due e i tre anni fra il 1210 e 1213 a seconda delle fonti ma ebbe luogo dopo la sedia di turno nel dicembre del 1213 la fine ebbe fine quindi dopo il dicembre 1213 in seguito a questa data per la prima volta l'alvernia venne annessa al dominio reale di francia il territorio sarebbe stato poi trasformato nel ducato di alvernia lasciando quindi al conto è solo una porzione estremamente ridotta del territorio anche nei confronti del conte di boulogne renault da martin la situazione venne risolta con un intervento militare filippo per assicurarsi l'alleanza del conte aveva organizzato il matrimonio del proprio secondo genito filippo anche lui con matilde figlia di renault ma ben presto il re di francia scoprì che il conte stava trattando anche con gli inglesi nel 1211 quindi filippo secondo decise di passare all'offensiva conquistando morten o mal e da martin stessa costringendo renault alla fuga nelle fiandre infine terzo luogo di conflitto feudale il problema era dato dalla successione di baldovino di fiandra e no l'abbiamo detto prima baldovino quinto che aveva preso parte alla quarta crociata nell'estate 1202 e partecipi che era una crociata un po anomala perché era diretta in realtà contro l'impero bizantino e aveva partecipato alla presa alla conquista di costantinopoli dopo la quale venne addirittura nominato imperatore del nuovo impero latino fondato appunto nel maggio del 1204 questo baldovino però venne fatto prigioniero successivamente dai bulgari e ucciso l'anno successivo già nel 1205 nelle fiandre la successione quindi spettava a filippo fratello di baldovino e conte di namura quindi non filippo secondo il quale giurò fedeltà per appunto questo territorio a filippo secondo in qualità di suo vassallo la centralità del ruolo di filippo secondo è evidente anche nei suoi rapporti con il papato e con l'impero dopo la morte nel 1197 dell'imperatore oestaufen enrico sesto figlio di federico barbarossa si presentavano come pretendenti al sogno imperiale ottone di brunswick che era quello stesso ottone nipote di riccardo senza terra di riccardo cordileone e di giovanni senza terra lasciato alla corte imperiale con come garanzia del pagamento del riscatto per riccardo cordileone che riccardo poi attraverso un abile gioco politico era stato era riuscito a fare leggere re dei romani quindi il futuro imperatore questo ottone che era sostenuto a livello internazionale dallo zio giovanni senza terra ed era il favorito anche di 1903 che si contendeva in qualche modo la successione imperiale con filippo di svevia che era il fratello di enrico sesto che era sostenuto invece da filippo secondo augusto di francia e che venne incoronato re di germania nel 1205 filippo di svevia però venne assassinato già nel giugno del 1208 e ottone quarto senza più rivali poter così essere incoronato imperatore nell'ottobre 1209 papa innocenzo terzo però a questo punto si pentì del favore concesso a suo tempo ottone dopo che questi rivelò in realtà le sue ambizioni di espansione del potere imperiale in italia così nel 1210 ottone venne scomunicato addirittura dal papa insieme e innocenzo terzo insieme a filippo secondo a questo punto insieme non più rivali concessero il proprio appoggio a chi al giovane federico secondo di svevia no il futuro stupor mundi proprio lui che era figlio di enrico sesto nipote di federico barbarossa che venne grazie alla scomunica precedentemente affibbiata ottone incoronato re di germania nel 1212 questa intensa attività politica non tardò a creare in qualche modo quasi naturalmente una grande coalizione contro il re di francia artefice dell'accordo tra giovanni senza terra che era lo zio di ottone e ottone stesso fu proprio chi era in odi da martin che era appena stato sconfitto e obbligato a giurare fedeltà da filippo secondo che a questo punto non aveva più nulla da perdere si era recato personalmente a francoforte prima e in inghilterra poi proprio per fare in modo che questa alleanza prendesse vita l'alleanza quindi fra l'inghilterra e l'impero o meglio il l'imperatore deposto potremmo dire del sacro romano impero filippo secondo convocò i propri baroni a questo punto l'otto aprile 1213 a sua son affidando il figlio luigi ottavo il compito di guidare la coalizione contro l'inghilterra di nuovo tradizionale mossa diciamo di politica capetingia nella quale il re a un certo punto si associano al trono al governo proprio effettivo gli da effettivamente qualcosa da fare il figlio perché il progetto di filippo secondo a questo punto grande ambizione di filippo secondo era quello di condurre una guerra offensiva invadendo direttamente l'inghilterra cioè lui in qualche modo era consapevole che questa guerra sarebbe scoppiata e riteneva che fosse il momento opportuno per il regno di francia che regno di francia grazie alle annessioni territoriali del 1206 avesse a questo punto la forza per sconfiggere definitivamente i plantageneti in che modo invadendo direttamente l'inghilterra però a so quasi a sorpresa nel maggio 1213 la flotta inglese di giovanni senza terra riuscì a sorprendere la flotta francese che era praticamente pronta nel porto di dam nel nord est della costa atlantica francese era praticamente pronta ad invadere l'inghilterra si dice che su queste navi che erano oltre 700 navi non tutte all'ancora del porto ma qualcuna l'ancora a largo perché non c'era spazio nel porto però avessero già a bordo tutte le vettovaglie le salmerie necessarie all'invasione quindi l'invasione che era praticamente evidente eppure grazie a questa azione a sorpresa della flotta inglese ecco che la flotta francese viene distrutta praticamente nel porto questa sconfitta che di fatto faceva tramontare le speranze di filippo secondo di poter invadere l'inghilterra fece addirittura esclamare secondo le fonti a filippo secondo augusto che i francesi non erano di fatto gente di mare cioè dice il problema qua è che gli inglesi si sono gente di mare noi no siamo gente di terra e questo ci fa così fare un salto in avanti di secoli ci fa pensare al grande conflitto che oppose napoleone al punto all'inghilterra no all'inizio del dici andesimo secolo quando il problema di napoleone fu proprio che la francia dominava no il grande impero francese dominava tutta europa ma quando si trattava di una battaglia navale da abuchir a trafalgar e alle altre e il blocco continentale no prova a fare napoleone a un certo punto ma ormai le navi inglesi stanno dominando gli oceani no il grande commonwealth nasce poi nell'ottocento però la forza inglese appunto sta sul mare mentre quella francese sta sulla terra e filippo secondo quasi profeticamente in qualche modo lo constata dopo aver visto l'incendio della sua flotta forte di questo successo però giovanni senza terra che probabilmente avrebbe venuto a contentarsi decise a questo punto di passare all'offensiva perché vedeva all'orizzonte la possibilità di recuperare i propri feudi quelli che aveva perso nel 1206 e quindi sbarcando con il proprio esercito alla rochelle nel febbraio 1214 con l'obiettivo di colpire l'esercito francese che era impegnato in quel momento a combattere nelle contee di boulogne e nelle fiandre e che quindi veniva in qualche modo l'obiettivo del re d'inghilterra quello di colpire alle spalle mentre l'esercito francese è impegnato nelle fiandre perché le fiandre fanno parte di questa grande coalizione antifrancese di colpire l'esercito alle spalle inizialmente la strategia di giovanni senza terra sembrò anche funzionare dal momento che si guadagnò il sostegno dei baroni del limosino e del poitù quindi del sud della parte centrale in qualche modo della francia nel maggio del 1214 l'esercito di giovanni iniziò una marcia verso nord prendendo angelo filippo secondo che era ancora impegnato nelle fiandre e affidò a luigi ottavo al figlio il compito di fronteggiare giovanni la strategia di filippo secondo di dividere le forze in due parti cioè lasciarne una comandata da lui stesso nelle fiandre e mandare il figlio a contrastare l'avanzata dell'esercito anglo normano portò immediatamente i suoi frutti il 2 luglio 1214 luigi giunse quindi in soccorso della fortezza di la roche o muen del men che era allora sotto l'essedio dell'esercito inglese di giovanni costui alla vista dell'arrivo dell'esercito francese venne immediatamente preso dal panico e deciso di fuggire quindi nonostante questa vittoria però la partita decisiva della guerra si giocava nel nord est e vedeva filippo secondo impegnato a combattere sì contro le fiandre e i signori delle fiandre ma contro soprattutto ottone quarto di brunswick no l'imperatore dei posti e la battaglia decisiva venne combattuta buven una la data è quella di domenica 27 luglio 1214 domenica già dovrebbe così farci di rizzare l'antenna perché di domenica è in epoca di europa cristiana non si può combattere perché a domenica il giorno del signore non è certo il giorno in cui ci dobbiamo fare la guerra ma ottone quarto è scomunicato dal 2210 quindi se ne frega altamente il fatto che il papa non voglia che si combatta la domenica e quindi si combatte questa battaglia del 27 di luglio 1214 di domenica la battaglia di duven e al di là della sua importanza per le conseguenze che porta anche una particolarità perché l'abbiamo detto tante volte ormai lo sappiamo le battaglie campali decisiva esercito contro esercito nel medioevo sono rarissime perché la forza delle fortificazioni difensive dei castelli garantisce una comoda ritirata agli eserciti e quindi molto spesso per non attaccare in certa battaglia campale preferiscono asserragliarsi dietro le mora del castello che tanto senza le armi da fuoco è difficilissimo da espugnare quindi cosa succede nonostante l'imperiorità numerica 7.000 uomini contro circa 9.000 la vittoria di filippo secondo augusto di francia fu in questa occasione totale l'imperatore del posto venne messo in fuga numerosi furono gli ostaggi presi dai francesi compresi cinque conti fra cui proprio re node d'ambartin e lo stesso conte di fiandre quindi due pezzi da 90 che interessavano veramente a filippo perché è lì che lui voleva estendere il dominio della francia le conseguenze vedete vi ho messo qua nella cartina gli schieramenti in campo dell'esercito imperiere di ottone e di quello francese di filippo augusto il 18 settembre 1214 in conseguenza di questa vittoria francese venne firmato il trattato di chinon che doveva sancire una pace di cinque anni con l'inghilterra sancendo contemporaneamente però la fine ufficiale dell'impero angioino innocenzo terzo costrinse giovanni senza terra ad accettare il trattato che vedeva passare alla francia tutti i feudi plantageneti a nord della loira vale a dire il berri la touraine il men l'angio oltre ovviamente la normandia che già era stata acquisita nel 1206 a questo punto ritorniamo con la mente a quella cartina che abbiamo visto all'inizio della lezione solamente il ducato da acquitagna rimase in mano inglese filippo secondo però non si accontentò la battaglia di bouvain e la perdita dei feudi francesi avevano fatto sì infatti che in inghilterra numerosi baroni si ribellassero a giovanni e poi sono gli eventi che hanno portato poi giovanni nel 1215 quindi l'anno successivo anno precedente la morte di giovanni stesso a emanare a concedere la magna carta libertatum ai baroni di cui abbiamo ampiamente parlato nella precedente lezione cosa succede però appena scoppia questa conflittualità in inghilterra filippo secondo non si fa perdere l'occasione neanche questa volta di inserirsi all'interno di questa disputa sostenendo che giovanni senza terra andasse privato del trono per il tradimento perpetrato ai danni di riccardo cordileone nel lontano 1194 e per l'omicidio del nipote arturo secondo filippo in virtù del matrimonio con bianca di castiglia infatti attenzione che era nipote di giovanni senza terra di riccardo cordileone perché figlia di una loro sorella il figlio luigi ottavo in virtù di questo matrimonio avrebbe infatti potuto avanzare pretese sul trono inglese che gli fu effettivamente offerto dai baroni inglesi abbiamo visto anche l'altra volta guardando la storia della prospettiva inglese come nelle fonti inglesi spicchi il fatto che offrire la corona luigi ottavo significava non offrire la corona in inghilterra uno straniero che quindi luigi ottavo della dinastia capetigia venisse percepito da una nobiltà da un'aristocrazia che era fondamentalmente anglo francese no dalla normandia all'inghilterra e viceversa è come un non come non uno straniero del regno di inghilterra anche se era l'erede al trono del regno di francia pensate la particolarità di questa cosa però vedete qual è il punto il punto è che filippo secondo di francia sa perfettamente che giovanni senza terra non ha un erede diretto e sa perfettamente che questa ribellione dei baroni può andare a buon fine che quindi può accadere che il trono di inghilterra diventi vacante ed ecco che a questo punto andiamo a così sfruttare il fatto che la moglie no del re del futuro re di francia fosse imparentata con il re di inghilterra per proporre luigi ottavo come successore al trono e i baroni di inghilterra sono assolutamente d'accordo quindi lo convocano proprio in inghilterra nel 1216 luigi ottavo il futuro luigi ottavo sbarcò in inghilterra con 1200 cavalieri feudali e conquistò londra che divenne da quel momento la base delle sue operazioni in inghilterra il sostegno luigi cui resistevano dopo questo arrivo così impetuoso in inghilterra a cui resistevano fedeli a giovanni senza terra solamente le fortezze di windsor dovere lincoln che erano ancora fedeli al re che non venne abbandonato neanche dal papa bisogna dirlo di cui si era dichiarato bassallo durò però questo sostegno luigi solamente fino all'autunno del 1216 quindi meno di un anno perché il 19 di ottobre 1216 giovanni senza terra muore e quindi una volta venuto a mancare il nemico i baroni iniziano a guardare con un certo sospetto a questa figura di luigi ottavo si accorgono che giovanni senza terra ha un figlio che è molto giovane a nove anni in questo momento sarà il futuro enrico terzo di inghilterra e che quindi potrebbe convenire proprio per tutelare le autonomie baronali di dare la corona direttamente al bambino trovandogli un tutore valido che sarà scelto nella figura di guglielmo il maresciallo che è dedicato dalle fonti addirittura letteralmente come il miglior cavalier feudale della storia che è il miglior cavaliere del mondo e che quindi fosse una persona così di un'autorità tale che potesse fare da tutore ormai aveva attraversato cinque decenni di politica inglese con tre sovrani diversi ogni tipo di guerra interna guerra esterna crociate assenza del sovrano trono vacante arcivescovo di canterbury assassinato nella propria cattedrale tutte queste cose qua e quindi era una figura che avrebbe potuto facilmente essere il tutore del re di inghilterra così luigi ottavo poveretto sempre più isolato venne sconfitto a lincoln proprio da guglielmo il maresciallo tuttora del muore d'inghilterra e nel settembre 1207 luigi accettò quindi capì che la sua situazione non poteva le sue ambizioni non potevano avere un seguito quindi accettò di negoziare la pace e tornò in francia dopo bouvain successive operazioni militari avvennero solamente quindi in inghilterra come nel caso appunto di quello che abbiamo appena detto di luigi ottavo e nel sud della francia in occasione della crociata con gli albigesi di cui che porteranno poi successivamente alla morte di filippo secondo ma anche la morte di luigi ottavo che regnerà solo tre anni 1223 1226 quindi porteranno con il regno di luigi nono poi all'annessione alla corona di francia della contea di tolosa ea quindi dedicheremo poi spazio nelle prossime lezioni la situazione del dominio della corona di francia se accettiamo questi due scontri quindi quello in inghilterra e quello nel sud della francia della crociata contro i catari gli albigesi perché stavano intorno alla città di albi guardate qua la creazione la cartina della croixade contro le salbijoie il regno di francia appare pacificato quindi filippo secondo cosa fa come dedica questa ultima parte del suo regno approfittando di successioni feudali favorevoli per estendere ulteriormente il dominio della corona come avviene nello champagne di filippo secondo riesce a far salire al potere il proprio per un ipoteti baldo quarto la volontà di imporsi come forza centripeta l'abbiamo detto inizio delle lezioni in contrasto alle forze centrifughe insite nella società feudale da parte di filippo secondo è riscontrabile l'abbiamo detto e lo diciamo come ultimo punto di questa lezione anche nella sua azione amministrativa obiettivo era quello di estendere anche nel governo interno quindi il potere centrale della corona l'atto nel quale filippo secondo organizzò l'amministrazione del regno è un atto in realtà è fatto quando lui ha solamente 25 anni cioè nel 1190 quando e perché riordina l'amministrazione del regno nel 1190 perché sta per partire per la crociata e quindi lascia una sorta di ordinanza testamento che ha l'obiettivo di disciplinare l'amministrazione del regno e quindi in primo luogo filippo secondo ristruttura la figura istituzionale dei valivi che erano funzionari istituiti dagli anglo normanni e che in francia però non avevano trovato fino a quel momento una configurazione stabile filippo secondo infatti si ispirò alle riforme amministrative di enrico secondo plantageneto del 1176 trasformando i validi in funzionari nominati dal re e dovevano essere intorno a questa epoca di filippo secondo più o meno una dozzina il compito di questi valivi era quello di spostarsi nei domini diretti della corona tanto per amministrare la giustizia pubblica quindi una sorta di giudice itinerante un tribunale regale itinerante tribunale pubblico itinerante quindi non un tribunale feudale né un tribunale ecclesiastico che a cui si ricorreva soprattutto per le cause d'appello quanto poi oltre a questa a questo compito i valivi avevano anche il compito di gestire una sorta di di abbozzare potremmo dire una rudimentale contabilità del regno quindi tenere i conti perché è questo è fondamentale sotto filippo secondo i valivi non acquisirono ancora quindi una precisa collocazione territoriale quindi non venne applicata alla singola regione il singolo funzionario cosa che avrebbe invece sarebbe avvenuto invece in seguito il potere dei valivi non derivava però attenzione questa è la cosa fondamentale non derivava dall'essere investiti di un territorio come lo erano i vassalli quanto piuttosto dall'essere nominati e stipendiati dal re ed erano secondo quanto hanno ricostruito gli storici stipendiati più di quanto veniva pagato ad esempio un cavaliere feudale mercenario il valivo aveva inoltre l'obbligo di rendere conto della propria attività almeno tre volte l'anno per evitare malversazioni che dicono già le malversazioni le commettono i baroni e i vescovi evitiamo almeno che le commettono i funzionari diretti della corona i valivi erano assistiti dai prevoti vale a dire i sindaci potremmo dire che era un'altra istituzione che già esisteva quindi filippo secondo di fatto non inventa nulla ma che in passato aveva avuto diverse applicazioni e funzioni questi funzionari erano invece adesso legati a una precisa zona quindi erano assistenti del valivo quando il valivo arrivava nella loro zona ma loro rimanevano nel determinato territorio dove si occupavano della giustizia ordinaria in alcuni territori di nuove acquisizioni poi la figura di riferimento a livello di amministrazione pubblica era quella dei senesciò vale a dire i siniscalchi si trattava anche in quest'occasione della ridefinizione di un titolo già esistente la particolarità riguardo i siniscalchi era che proprio a partire dal regno di federico di filippo secondo questa carica non fu più ereditaria nonostante questo però il siniscalco veniva nominato fra il baronato locale quindi a differenza dei valivi dei prevoti erano funzionari estranei alla nobiltà feudale il siniscalco che non è più una carica ereditaria quindi non dipende più no dalla dinastia ma quindi di nomina regia ma di nomina fra il gruppo dei baroni cosa che lo rendeva una carica abbastanza problematica per i rapporti appunto fra l'autonomia locale e il potere centrale l'importanza del regno di filippo secondo è riscontrabile ancora nella percezione stessa che il regno assunse nella mentalità dei contemporanei il termine francia pensate nei testi contemporanei viene utilizzato con sempre maggiore frequenza prima si parlava di regno dei franchi non di francia e la locuzione rex france quindi rex re della francia comparve in un atto diplomatico per la prima volta proprio nel 1204 sotto il regno di filippo secondo quindi anche questo ci testimonia dell'importanza di questo sovrano il potere centrale fece pass progressi nelle sue stesse forme di rappresentazione la rappresentazione del potere è un filone estremamente interessante degli studi storici sia del medioevo che di età moderna già da luigi settimo era abitudine utilizzare il fleur de lì il giglio come simbolo reale utilizzato sul sigillo del re si sviluppò anche la propaganda reale con il profil proliferare delle cronache ufficiali quindi una narrazione che è gestita direttamente dal centro anche questa è una cosa importantissima già a partire dal 1186 il monaco rigor dell'abbazia di san denis il primo ad attribuire al sovrano l'appellativo di augusto iniziò la redazione delle gesta filippi augusti quindi sempre su ispirazione di quelle che erano le res gesta di vi augusti no così via no registro racconto delle imprese del re che dovevano rimanere quindi doveva essere una figura che fondava l'autorità stessa della corona di francia attraverso il racconto la narrazione delle sue imprese la propaganda funziona in questo modo qua ed è fondamentale per fondare l'autorità di un potere centrale la cronaca semi ufficiale di rigor venne poi proseguita dal chierico guglielmo di bretone direttamente su ordine del re a partire dal 1214 egli compose la cosiddetta filippide una cronaca in versi sullo stile dei poemi epici omerici riguardante per la leggesta di filippo augusto queste due cronache scritte in latino vennero poi tradotte nel corso del tredicesimo secolo dal prima di saint denis che le fece confluire nelle grand chronique de france le grandi cronaca di francia la prosperità del regno al termine della vita di filippo secondo augusto è un dato di fatto perché l'eccedenza del tesoro era stimata in 25 mila lire nel novembre del 1221 nello stesso anno il tesoro aveva nelle sue casse 157 mila lire più dell'ottanta per cento dell'entrata annuale della monarchia il testamento di filippo confermava queste entrate dal momento che la somma dei suoi lasciti ammontava a 790 mila lire parigine circa quattro anni di entrato del regno messi da parte quindi assolutamente molto lontano da un deficit questo testamento di filippo secondo venne redatto quando la salute di filippo secondo inizi a peggiorare il re si aveva in normandia a passi quando decise contro il parere dei medici di assistere all'assemblea ecclesiastica che a parigi doveva occuparsi di discutere e organizzare nuove crociate il re non riuscì tuttavia mai a superare la fatica del viaggio verso parigi morendo amante il 14 luglio 1223 e si conclude così questa lunga lezione dedicata al regno di filippo secondo che per ora presenta appunto un ruolo chiave ci dedicheremo nelle prossime lezioni alla crociata con gli albigesi una lezione e poi sposteremo il centro geografico delle nostre lezioni di nuovo sulla germania e sull'italia parlando di federico secondo da un lato e dei comuni italiani all'epoca potremmo dire di tante nella seconda metà del tredicesimo secolo grazie a tutti per averci seguito alla prossima